Ci batteremo nella nuova legislatura per far approvare la legge sul care giver, è una formula inglese. Significa cosa? Significa che quando c'è una persona con disabilità, e voi lo sapete bene, nella vostra esperienza anche personale, sapete che a fianco vuol dire che c'è un familiare che si sacrifica, ha sacrificato e sacrifica tutta la sua vita personale e professionale per stare a fianco e assistere la persona con disabilità.